La crisi del pronto soccorso Capitolini non occupa più le prime pagine quotidiani ma le difficoltà di una sanità costantemente alle prese con blocco del turnover, la carenza dei posti letto e bilanci in rosso restano. Al direttore generale dell'ASL Roma, Camillo Riccioni, abbiamo chiesto quali sono secondo lui le cause dell'affollamento dei dipartimenti d'emergenza, a cominciare da quello del policlinico Umberto I, dove grazie a un blitz dei due parlamentari Ignazio Marino e Domenico Gramazio è stata trovata una donna malata di Alzheimer legata da giorni alla barella in attesa di un ricovero. Le colpe sono del sistema intero che gestisce la salute dei cittadini, quindi chiama in causa una non corretta gestione della salute sul territorio e chiama in causa la gestione complessiva dell'azienda ospedaliera e dei reparti, quindi a mio giudizio le responsabilità quantomeno vanno suddivise, non possono essere tutte a carico di chi gestisce il pronto soccorso. Quindi non condivide nemmeno la scelta di aver sospeso i due direttori del DEA del policlinico Umberto I? Non ho elementi sufficienti per dire questo, quello che posso dire è che di certo la regione di concerto con questa azienda aveva messo a disposizione del DEA del policlinico Umberto I un numero consistente di medicina generale per occuparsi di codici bianchi e codici verdi. In realtà i medici di medicina generale sono stati sottoutilizzati dai dati in nostro possesso e hanno svolto un'attività, se era affrontata quella di una struttura molto più piccola come il Nuovo Regina Margherita, in realtà appunto da questi dati si evince che sono stati utilizzati in maniera poco corretta. Nei giorni della polemica sulla sanità laziale molte sono state le critiche nei confronti della scelta presa dalla passata giunta regionale di chiudere l'ospedale del centro storico San Giacomo. Anche a seguito del cambio di amministrazione la struttura non è mai stata riaperta, secondo alcuni ex dipendenti del nosocomio e l'opposizione all'interno del palazzo sarebbero stati abbandonati dei macchinari molto costosi. Quello che è incomprensibile è la decisione di chiudere totalmente una struttura quando invece la struttura poteva essere riorganizzata per occuparsi del cronico riacutizzato a tutto vantaggio dei pronti soccorsi e dell'idea di secondo livello. Non c'è la possibilità di trasformarlo in questo modo? Quando una struttura viene chiusa e passa del tempo diventa sempre più complesso poi rimettere in moto il sistema. Però stiamo lavorando proprio a questo tipo di progetto e peraltro stiamo in uno stato molto avanzato di progettazione e ritengo che nel giro di non molti mesi si possa divenire qualcosa di buono per il San Giacomo. È vero che ci sono dei macchinari salvavita tra cui anche un'attacca abbandonati al San Giacomo? San Giacomo non c'è più nessuna apparecchiatura al suo interno. L'ultima che ho trovato io quando sono stato nominato commissario straordinario era una risonanza magnetica che è stata ricollocata al nuovo Regina Margherita e sta entrando in funzione in questi giorni. Per dare una risposta alla crisi del pronto soccorso la Regione Lazio ha firmato un protocollo d'intesa con l'esercito che ha messo a disposizione le strutture sanitarie presenti a Roma. Nel territorio della ASL venè una storica, l'ospedale Celio, che secondo le ipotesi della direzione potrebbe dare una boccata d'ossigeno con i propri posti letto. Celio è una struttura prestigiosa, è una struttura dove lavorano professionalità di alto profilo sia dal punto di vista medico che dal punto di vista organizzativo e amministrativo e ritengo che il principio generale che regola questo accordo è quello di far interagire tutte le forze in campo per quanto concerne la filiera produttiva che produce il bene salute per poter far fronte a questo periodo di contingenza. Dovremmo a breve riuscire a fare un incontro con i responsabili del Celio per verificare la disponibilità della struttura, di posti letto eccetera, perché a mio giudizio può essere una grandissima risorsa proprio nel progetto generale della gestione del cronico e del cronico riacudizzato. Dopo circa un anno di direzione il professor Riccioni ha riguardato i bilanci e corretto le spese. Una di queste è stata il taglio dell'ospedale virtuale, un progetto che a fronte di un costo pari a un milione di euro l'anno prevedeva l'assistenza di poco più di 40 pazienti. Al suo posto l'amministrazione dell'Asla ha scelto di incrementare l'assistenza domiciliare. La nostra assistenza domiciliare è strutturata in assistenza domiciliare ad altissima intensità, ad alta intensità, a media e bassa intensità. Quindi noi abbiamo contemplato una voce in più, l'altissima intensità. La differenza tra altissima e alta è la capacità del paziente di respirare autonomamente o di dover essere assistito con respiratore automatico. Abbiamo 25 malati di SLA che gestiamo in H24 e devo dire con ottimi risultati e circa 400 pazienti affetti da patologie importanti e che il nostro sistema riesce a gestire in maniera molto corretta e molto performante. Accanto ai conti e ai bilanci la sfida per le Asle Capitoline sembra essere quella contro le prestazioni inappropriate, ovvero tutti gli esami e le visite non adeguate al caso clinico che hanno come conseguenza l'ingolfamento delle liste d'attesa. Noi ci siamo adoperati in maniera attenta per risolvere questo problema perché abbiamo coscienza che solo sconfiggendo il mare dell'inappropriatezza sia per quanto concerne le prestazioni di carattere clinico-diagnostico che i ricoveri inappropriati si può arrivare a offrire sempre migliori prestazioni e sempre migliore qualità prestazionale senza dover fare i conti poi con la contingenza economica.